Buongiorno ragazzi, bentornati all'interno del nostro canale. Saluto la seconda H, saluto la seconda E e vi do il benvenuto in questa lezione di geografia. Ricordo a tutti gli studenti che ancora non mi hanno mandato il materiale, le mappe che vi ho richiesto, di farlo al più presto. Potete farlo attraverso il registro elettronico, potete farlo soprattutto attraverso la mia email. Avete visto che rispondo in tempi brevi, per cui quanto prima inviatemi tutto il materiale che vi richiedo. È importante per me, è importante per verificare i vostri progressi e la vostra presenza all'interno di questo corso online. Per cui mi raccomando inviatemi tutto quello che chiedo. Vi do il benvenuto a questa lezione nuova di geografia e vi ricordo come sempre che io sto a casa. È importante che stiamo tutti a casa e che affrontiamo questa emergenza nel migliore modo possibile, cioè non diffondendo il virus. Questa battaglia si vincerà. Si vincerà con il rispetto per le regole. Il rispetto per le regole da parte di tutti. Io direi di non perdere ulteriore tempo e di iniziare la lezione di oggi. Nel nostro viaggio per l'Europa andremo oggi in uno stato particolare, la Svizzera. Partiamo! Il primo passo da compiere, come sempre, è quello di disegnare la mappa del nostro stato di riferimento, in questo caso la Svizzera. Consiglio di prendere un nuovo foglio del nostro quaderno, metterlo, vi consiglio, in orizzontale in modo da avere più spazio possibile per disegnare la nostra mappa e per inserire tutti quei riferimenti che siamo abituati a disegnare attraverso i vostri colori e il mio gesso bianco. Per cui iniziamo immediatamente con i confini della Svizzera. Come sempre, cerchiamo quanto possibile di seguire i confini dello Stato. Il nostro disegno non sarà, ovviamente, estremamente preciso, ma anche questo è un esercizio che noi andiamo a imparare e a mettere in pratica. Le carte geografiche per secoli si sono disegnate senza, ovviamente, senza possibilità di avere strumenti come satelliti, come addirittura aeroplani per avere una visione, diciamo, più completa di quelli che erano i territori. Si viaggiava lungo le coste e si cercava di tracciare, quanto meglio possibile, proprio i confini, i confini dello Stato che si voleva rappresentare. Ed ecco qui la nostra mappa della Svizzera. Segnaliamo, come sempre, per prima cosa, quelli che sono gli stati confinanti. Iniziamo da ovest, quindi abbiamo la Francia. Poi segniamo più o meno appunto dove si conclude il confine della Francia con lo Stato successivo, che è la Germania, sono gli stati che abbiamo visto nelle ultime lezioni. Poi c'è il confine con il Liechtenstein, questo piccolo Stato che proprio si trova in questa posizione, cioè tra Svizzera e Austria, che sarà lo Stato che andremo a prendere in esame nella prossima lezione. E ovviamente nella parte meridionale c'è gran parte del confine dedicato appunto al nostro paese, all'Italia, ecco ve lo segno qui in modo che sia chiaro che la parte meridionale del nostro confine è appunto con il nostro paese. Questi sono i paesi confinanti e come al solito andiamo a fare qualche valutazione in merito a quella che è la geografia fisica del paese. Abbiamo incontrato finora paesi che avevano sbocco sul mare, questo è il primo Stato che andiamo a conoscere e ad affrontare che invece non ha sbocchi sul mare. Per quanto riguarda le montagne, possiamo sintetizzarle considerando che nella parte meridionale, quella appunto del confine con l'Italia, la Svizzera condivide le catene montuose delle Alpi. Quindi abbiamo, possiamo segnare tranquillamente le Alpi pennine che sono nel quadrante ovest del confine, per cui col nostro pennarello o pastello marrone segniamo appunto le Alpi pennine, le Alpi le pontine che invece sono collocate più ad est e infine le Alpi rettiche che sono situate lungo il confine con l'Austria. Andremo a vedere per memorizzare meglio quelli che sono gli aspetti morfologici della Svizzera che lavoreremo sul numero 3. Vi ho dato i tre nomi, le tre tipologie di Alpi appunto che caratterizzano la parte meridionale della Svizzera. Un'altra catena montuosa importante è il massiccio del Giura che invece si trova in questa posizione e noi segniamo le nostre montagne è al confine con la Francia. Nella parte centrale della Svizzera ci sono le Alpi bernesi che prendono il nome dalla capitale della Svizzera che è Bern che è collocata in posizione piuttosto centrale rispetto allo stato elvetico, allo stato svizzero. Quindi segniamo le Alpi bernesi come al solito con il nostro pennarello o pastello marrone e prendendo il nostro pastello pennarello tipico per segnalare quelle che sono le città segnaliamo con un bel cerchio rosso o arancione e scrivendo appunto il nome della capitale Berna, capitale della Svizzera. Ed ecco che vediamo che non ha sbocchi sul mare però le montagne certo non mancano è uno stato prevalentemente montuoso caratterizzato sì da zone anche di valli lo vedremo, valli fluviali o glaciali però ecco che a livello morfologico è caratterizzato dalla presenza di diverse catene montuose di montagne molto alte Cito solo come esempio il Monte Rosa e il Monte Cervino che nel caso del Monte Rosa superano i 4.500 metri addirittura arrivando a 4.630 circa metri mentre il Cervino si colloca a livello altimetrico leggermente sotto i 4.500 metri il Cervino è collocato lungo il confine con l'Italia in questa zona il Monte Rosa leggermente più a est quindi li segnaliamo appunto all'interno delle Alpi Pennine per cui ci sono vette che vediamo sono condivise con l'Italia che sono caratterizzate da altitudini molto molto importanti ecco dal punto di vista delle acque che è l'altro aspetto che ci interessa quindi mi raccomando pastello pennarello blu adesso o azzurro segnaliamo sempre utilizzando per memorizzarlo il numero 3 i tre fiumi principali che scorrono in Svizzera scorrono in realtà non per grandi distanze sono fiumi che due di questi abbiamo visto scorrere invece in maniera molto più profonda e molto più lunga in altri stati abbiamo nella parte ovest il Rodano possiamo tracciare il suo corso in questo modo lo segniamo Rodano Rodano che nasce in territorio svizzero e abbiamo visto poi scorrere gran parte in Francia e sfociare lo abbiamo visto nel capitolo dedicato alla Francia nel mar Mediterraneo in Camargue alle focce appunto del Rodano questo è il primo fiume il secondo fiume che consideriamo è un altro nostro conoscente ovvero il Reno il Reno scorre invece in quest'area della Svizzera nasce in territorio svizzero scorre in una parte del confine con il Liechtenstein e poi lo abbiamo visto nella scorsa lezione scorre per gran parte in territorio tedesco diventando poi un grande fiume navigabile e una via di comunicazione fondamentale per la Germania e per il territorio e l'economia tedesca l'altro fiume importante si trova nel versante invece meridionale del territorio elbetico ed è il Ticino Ticino che sappiamo poi scorrere in territorio italiano e sappiamo poi confluire all'interno del corso del fiume Po abbiamo quindi questi tre fiumi ricordatevi numero 3 a tutti questi tre fiumi a ciascuno di questi tre fiumi è associato un lago infatti una delle caratteristiche del territorio svizzero che abbiamo visto meno presente in altri stati è quello di avere dei laghi molto importanti per l'economia e per l'ecosistema proprio del territorio elvetico quindi ognuno di questi fiumi ha un lago di riferimento partendo come sempre da ovest abbiamo appunto in quest'area lo segniamo anche questo di azzurro essendo diciamo un ambiente caratterizzato dalla presenza di acqua non preoccupatevi di segnare i contorni delle sponde appunto del lago ma segnaliamo unicamente il lago quindi in azzurro o in blu e in quella posizione abbiamo il lago di Ginevra che prende il nome appunto dalla città di Ginevra che è collocata appunto lungo le sue sponde in particolare in questa posizione qua e ne approfittiamo per segnarlo così lo memorizziamo immediatamente il secondo lago importante e ci spostiamo nella parte nord orientale del paese è il lago di Costanza lo collochiamo appunto lungo il confine con la Germania segniamo la città di Costanza e questo è il lago di Costanza per quanto riguarda invece il terzo fiume ovvero il Ticino noi segniamo al confine con il territorio italiano il lago Maggiore una parte del quale proprio è in territorio svizzero ci sono sicuramente altri laghi nel territorio svizzero lo vedrete nelle mappe nei vostri libri di testo ad esempio molto famoso è il lago di Zurigo che è interamente in territorio in territorio svizzero e che noi segniamo perché ci interessa soprattutto la città di Zurigo per cui segniamo il lago di Zurigo e la città di Zurigo per cui abbiamo le città di Ginevra le città di Zurigo la città di Berna intanto sono queste le città che ci interessano per memorizzare un po' la geografia che vedete è complessa e che per sintetizzare è costituita da cime da catene montuose da fiumi in particolare i tre fiumi che abbiamo citato e da laghi che caratterizzano il paesaggio dello stato svizzero ecco questo per quanto riguarda la morfologia del territorio svizzero da questo da ciò che abbiamo detto sicuramente e da ciò che abbiamo considerato in precedenza con gli altri stati in particolare con la Francia con la Spagna la ricchezza che porta ad esempio avere lo sbocco sul mare le possibilità offerte dal clima oceanico dagli influssi proprio delle correnti oceaniche sul territorio in questo caso abbiamo un territorio gran parte montuoso con alcuni corsi d'acqua e alcuni laghi importanti il territorio offre questo per quanto riguarda il settore primario che è quello che consideriamo appunto per primo nell'analisi economica di un paese possiamo dire che il settore più fiorente è sicuramente l'allevamento l'allevamento di bovini da latte considerate le due produzioni forse più note a livello appunto di settore primario della Svizzera che sono i noti formaggi e poi ovviamente la cioccolata cioccolata che ha una storia molto interessante perché appunto la cioccolata come siamo abituati a gustarla oggi sotto forma di barretta è stata proprio inventata nel 1819 in Svizzera per cui poi si è caratterizzata una tradizione legata a questo prodotto molto importante ecco per quanto riguarda invece il settore secondario settore secondario si caratterizza per aziende che operano soprattutto in specifiche aree stiamo parlando ad esempio della meccanica di precisione meccanica di precisione che significa fondamentalmente orologi che significa strumenti scientifici strumenti di precisione componenti per strumenti scientifici avanzati ma che significa anche strumenti molto più alla mano molto più agevoli da utilizzare abitualmente come ad esempio le famosissime pinze multiuso appunto svizzere qua ne abbiamo un esempio e proprio relativamente a questo esempio vorrei darvi proprio un'immagine concreta di quella che vuol dire meccanica di precisione perché qui dentro alla fine noi troviamo una piccola tenaglia noi troviamo un cacciavite a stella noi troviamo una lente di ingrandimento perfettamente funzionante noi troviamo un apri bottiglie un cacciavite piano troviamo un apri scatole un altro cacciavite un altro cacciavite troviamo un apri bottiglie un cacciavite per gli occhiali per le vitine degli occhiali troviamo addirittura uno squama pesci con tanto di righello e un togliamo per chi va a pescare troviamo un seghetto per il legno troviamo poi vediamo qui abbiamo un seghetto per il metallo con la lima e troviamo una forbice e poi troviamo un taglierino o anche ecco questo è interessante un piccolo scalpello per lavorare il legno per non parlare ad esempio dello spillo che può sempre esserci utile in situazioni di emergenza oppure addirittura di una pinzetta e per non farci mancare nulla abbiamo anche una penna a sfera e nel caso di una bella mangiata uno stuzzicadente pronto all'uso vedete quindi questo è un esempio molto pratico con tanto il punto di bandiera svizzera che richiama appunto l'origine di meccanica di precisione molto noto e molto utilizzato in tutto il mondo ecco che però effettivamente il settore di punta a livello economico della svizzera è sicuramente il terziario faccio riferimento soprattutto alle assicurazioni e soprattutto alle banche ne abbiamo parlato rapidamente in classe di quella che è la peculiarità la caratteristica principale dello stato svizzero cioè quello di attirare quelli che sono capitali stranieri e per una gran parte della storia negli ultimi anni ci sono stati degli accordi con gli stati per evitare questo passaggio di denaro a volte proveniente anche da ambienti non limpidissimi però ecco che ci sono stati degli accordi per appunto mettersi mettersi nelle condizioni di scovare quello che è il denaro pulito dal denaro che invece proviene da attività non lecite per cui diciamo che questa caratteristica questa caratteristica delle banche svizzere di essere diciamo caratterizzate e protette dal cosiddetto segreto bancario ha dato alle banche svizzere la possibilità di reperire grandi capitali provenienti da tutto il mondo ed è questo uno dei motori dell'economia svizzera dovete immaginare che la svizzera nella sua storia ha sempre mantenuto questa neutralità una delle caratteristiche più curiose della svizzera è che è entrata a far parte dell'ONU per esempio è stato uno degli ultimi stati addirittura nel 2002 e tra l'altro un'altra caratteristica importante di questo stato è che effettivamente non fa parte dell'Unione europea è al di fuori dell'Unione europea proprio per questa sua caratteristica di voler rimanere autonoma rispetto alle politiche e le attività economiche del resto del continente ed ecco che questa neutralità poi si caratterizza non solo a livello economico e militare la Svizzera non interviene materialmente nei conflitti ai quali invece intervengono gli altri membri dell'ONU questa neutralità dicevo ha fatto sì che la Svizzera diventasse la sede di alcune di alcune importanti organizzazioni internazionali l'organizzazione mondiale della sanità ad esempio ma anche la croce rossa immaginate il simbolo della croce rossa croce rossa su sfondo bianco è esattamente il contrario della bandiera svizzera che invece è caratterizzata da uno sfondo rosso e dalla croce bianca per cui ecco che grandi organizzazioni mondiali per mantenere la loro indipendenza rispetto alle politiche dei diversi stati hanno trovato sede proprio in Svizzera caratterizzandosi quindi per l'autonomia anche loro rispetto alle politiche degli altri stati ecco che questo è in sintesi l'economia della Svizzera che quindi si ha importanti sviluppi dal punto di vista del settore primario e secondario ma che sicuramente vede nel traino delle banche e soprattutto nelle assicurazioni il suo riferimento più forte e più convincente a livello proprio di politica mondiale sicuramente un altro aspetto del terziario che ci può interessare sicuramente minore per quanto riguarda gli introiti rispetto al settore bancario è il turismo abbiamo visto che è uno stato caratterizzato dalla presenza di alte montagne e di laghi di ambienti naturali molto interessanti anche per quanto riguarda un turismo di avventura un turismo naturalistico nelle montagne in particolare in alcune località come ad esempio la famosa Saint Moritz riusciamo ad avere impianti e strutture alberghiere importanti che accolgono soprattutto nei mesi invernali numerosi appassionati di sci appunto e di sport e di sport invernali per cui anche il turismo diciamo porta alla Svizzera numerose risorse ecco che abbiamo visto che uno stato come questo che non presenta in realtà sbocchi sul mare nel corso della propria storia è riuscito ad ottenere a farsi valere dal punto di vista politico e soprattutto economico utilizzando sia quelle che sono le sue risorse naturalistiche sia quelle che invece sono le risorse prettamente economiche che attraverso l'ingegno e la capacità appunto di invastire delle attività economiche è riuscita poi ad affermare non solo a livello europeo ma anche a livello mondiale questa in sintesi è ciò che riguarda lo stato elvetico la Svizzera per cui direi di concludere la lezione di oggi e passare al momento dei saluti delle raccomandazioni finali saluti finali quindi ricordatevi ragazzi di diffondere questi video il più possibile attraverso i vostri gruppi whatsapp attraverso i messaggi che so che vi inviate all'interno della classe per cui diffondeteli a tutti i compagni e ricordate ai compagni di seguire le lezioni di fare i compiti per casa e di fornirmi chi non lo avesse ancora fatto i materiali che vi ho richiesto ringrazio tutti quelli che mi hanno già inviato appunto le mappe in alcuni casi veramente dei capolavori che fanno decisamente impallidire le mie mappe non solo perché le ho disegnate con il gesso bianco ma sinceramente perché in confronto alle vostre devono imparare veramente molto per cui vi ringrazio e vi ringrazio di questo impegno che state mettendo per la buona riuscita di questi corsi online vi auguro una buonissima giornata ci diamo appuntamento nella giornata nella mattinata di giovedì per continuare con appunto il programma di geografia e con un nuovo stato che vi ho già anticipato sarà l'Austria e vi ricordo di rimanere aggiornati per quanto riguarda appunto i compiti per casa e le lezioni che andremo ad affrontare il martedì e il giovedì ci vediamo presto mando un caro saluto a tutti e buon pomeriggio